qua mi sento in colpa perché abbiamo preso quest'uomo nella scorsa puntata questo grande della pirateria a suo malgrado, a sua insaputa l'abbiamo fatto soffrire, l'hanno ammutinato gli hanno causato problemi con la Royal Navy, problemi con la legge i suoi uomini, lui non voleva fare niente eppure noi andiamo a inferire perché gli dedichiamo due puntate quindi proprio andiamo a scandagliare ogni singola sfiga che ha avuto ragazzi, terrificante ma mi sembra giusto perché comunque ne ha avute talmente tante che avere anche la sfiga di finire in due puntate di radio pirata non potevamo fargliela mancare esatto, è un po' il fantozzi della pirateria potremmo anche definirlo così e allora, non di fantozzi ma la nostra sigla eravamo rimasti che i Running Wild cioè non eravamo rimasti i Running Wild non erano nella storia di Kid però i Running Wild, che sono un gruppo metal che ha dedicato a Kid una canzone nel loro decimo album avevano raccontato innanzitutto come Kid ha iniziato la sua vita marinaresca quindi sin da ragazzino poi come Flavio ci ha fatto vedere ottiene il potere per la prima volta su una nave grazie a un ammutinamento e il karma da lì è segnato per sempre e poi vediamo che come ci dicono i Running Wild nella seconda strofa Kid viene incaricato di dare la caccia a dei pirati parte con una ciurma di suoi marinai borderline fra il marinaio e il pirata anche lui e nasce del malcontento nella ciurma che lui pensa di risolvere diplomaticamente spaccando il cranio al capo dei rivoltosi della sua ciurma la ciurma reagisce però rapinando una nave inglese di passaggio che lui invece non voleva rapinare anzi sperava di avere dei rapporti civili con il capitano collega a questo punto cosa può succedere di più? cioè non è nemmeno morto ancora eppure ancora tante cose possono accadere no 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 guarda sai che succede ora? succede un bel colpo di fortuna oh vedi che tutta la ruota gira che però inevitabilmente si trasformerà nel peggiore colpo di sfortuna però ci arriviamo ci arriviamo nel 1698 Kid fa il colpo grosso cattura una nave indiana appartenente a un mercante armeno carica di bottino il problema è che il capitano di questa nave è un inglese quindi Kid è dell'idea di restituire il malloppo magari per ripulire un po' il proprio nome che si stava sporcando leggermente la ciurma però tanto per cambiare era di un'idea differente tra l'altro la nave appartenente a un armeno l'Armenia in quel periodo era un protettorato francese quindi era legale per loro catturarla in teoria diciamo abbastanza legale forse Kid a questo punto si lascia convincere non tanto perché era convinto lui quanto piuttosto perché se rifiutava anche questa avrebbe perso definitivamente il controllo sulla ciurma che comunque era pronta all'ammutinamento da un momento all'altro l'evento però San C e qui era la botta di sfiga nella fortuna che Kid non poteva farsi mancare l'evento San C definitivamente l'ingresso di Kid nella lista dei Notorious Pirates in Inghilterra i pirati ricercati a questo punto Kid decide di tornare in Madagascar e trovare il modo di ripulire il proprio nome impresa ormai disperata il destino volle che lì incontrò una persona ti ricordi Robert Califord il suo vecchio amico nemico che prima lo mise al comando della nave poi dopo gliela rubò e si ammutinò contro di lui il destino volle che i due si rincontrarono nuovamente lì in Madagascar l'inconso tra i due tu immagina Kid magari ce l'aveva un pochino con lui però doveva ripulire il proprio nome eccetera eccetera quindi l'incorso tra i due fu pacifico alcune testimonianze dicono che i due si salutarono come vecchi amici proprio e che Kid non servava alcun rancore altre invece sostengono che Kid avrebbe voluto fargli la pelle e bruciargli la nave fino alla consunzione ma aveva paura di non essere abbastanza forte per tenere testa alla ciurma di Califord è entrata in gioco la politica e si è calmato per puro spirito di diplomazia non per reale diciamo bontà d'animo immagino di sì insomma magari ci aveva un portente avvelenato sto ragazzo comunque il problema è che a differenza dei Kid Califord faceva proprio il pirata e se ne fregava abbastanza di quanto fosse sporco il suo nome quindi la ciurma di Kid che era un po' più incline a quel tipo di stile di vita diciamo così decide di abbandonare Kid per sempre e unirsi a Califord che per la seconda volta anche se stavolta non proprio di spontanea volontà gli frega la ciurma ma povero Kid comunque il nostro amico povero Kid esatto proprio riassunto della puntata è poro Kid sì 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 difatti come come abbiamo giustamente deciso di intitolare questo episodio Kid subisce ancora perché non è secondo tragico Kid rimane con solo 13 uomini quindi tu immagina anche solo governare una nave con 13 uomini poi un numero sfortunato cioè anche nel numero 13 è vero non se ne esce vabbè quindi decide di mollare tutto vada come vada io me ne torno a New York e pensa che come se non da bastasse la sua Adventure Galleghi ha pure dovuto da fuoco perché era invasa dei parassiti era in pessimo stato era inutilizzabile praticamente parassiti marini termini o termini non si sa quando dicono vermi che mangiano il legno nel fine 600 può significare qualsiasi cosa sulla via del ritorno passò per i Caraibi vendette quello che poteva a un pirata che è in controllo da quelle parti un tale William Burke e poi poco prima di raggiungere New York seppellisce il suo tesoro a Gardner's Island che è un'isoletta proprio poco prima di New York vicino Long Island l'intento era quello di andare a riprenderselo in seguito e utilizzarlo come un mezzo per corrompere il governatore e riabilitare il suo nome aveva già in mente quindi la strategia conosceva bene il governatore esatto come va con i running wise le citano io in realtà volevo proprio aprire una parentesi a questo punto sul tesoro sul tesoro del capitano Kidd perché io non sapevo se fosse leggenda o meno ma il tesoro di Kidd è citato da molte opere di fantasia e quindi poi non vedo l'ora che tu ci dica se questo tesoro lui poi in qualche modo è riuscito a riprenderlo o se è ancora lì e ci dobbiamo andare noi o se con la sfortuna che ha avuto l'alta marea si è preso tutto il tesoro e tutto l'oro è finito in mare perché conoscendo Kidd ma vista la sorte di Kidd se il tesoro fosse ancora lì vorresti davvero andarlo a prendere è un tesoro maledetto però la prima domanda che mi faccio è perché Kidd non è mai tornato da suo padre a farsi benedire un attimino a dire papà tu che sei prete intercedi e quindi no questo tesoro di William Kidd è citato nella saga di Assassin's Creed che anche quella noi abbiamo già dedicato un episodio proprio a Black Flag nel terzo capitolo di Assassin's Creed c'è proprio una missione sul tesoro del capitano Kidd nel quarto capitolo della saga Kidd viene solo citato ma nel terzo c'è proprio una missione sul tesoro del capitano Kidd ma la cosa veramente interessante invece è che al mito del tesoro del capitano Kidd ha dedicato una sua opera il grande Edgar Allan Poe noi sappiamo che Edgar Allan Poe è uno scrittore poeta statunitense nato nel 1809 e lui ha veramente spaziato molto attraverso i generi è uno comunque dei padri dei racconti del mistero dell'orrore molte sue opere sicuramente sono famose e le conoscete bene non so se sapevate che si era cimentato anche con il tema delle cacce al tesoro piratesche perché infatti è opera proprio di Edgar Allan Poe lo scarabeo d'oro che è un racconto nel quale il protagonista William Legrand non la grande quello è Monkey Island non vi confondete William Legrand che è un nobile decaduto che vive sull'isola di Sullivan con uno schiavo un giorno trova un oggetto misterioso si tratta di uno scarabeo uno scarabeo d'oro e lui questo oggetto in realtà inizialmente se ne disfa non gli dà diciamo particolare importanza se non che dovendo parlare con un amico dicendo guarda ho trovato questa cosa qua prova a ridisegnare la forma dello scarabeo che aveva trovato e trova un teschio cioè nella forma nelle macchie dello scarabeo ridisegnandolo lui vede la forma di un teschio già qua vedi Edgar Allan Poe ci tiene sulle spine e immaginate che da questo inquietante ritrovamento parte una caccia al tesoro con enigmi con misteri quindi proprio una classica caccia al tesoro in più col tocco di Edgar Allan Poe proprio volta a trovare il tesoro di Capitano Kid una cosa molto interessante che c'era a dire su Edgar Allan Poe è il fatto che lui è stato in grado attraverso le sue sperimentazioni di regalare ai posteri alcune delle più grandi opere anche opere per ragazzi che siano mai state create perché lui è riuscito a ispirare gli artisti a lui successivi che hanno creato opere grandiose che ci hanno anche cresciuto in un certo modo per chi ama la lettura ma tutte queste opere devono l'ispirazione Edgar Allan Poe tutti questi autori con cui noi siamo cresciuti devono l'ispirazione Edgar Allan Poe a chi mi sto riferendo esattamente voglio dire ma di che sta a di vi spiego meglio senza Edgar Allan Poe non avremmo l'isola del tesoro e non avremmo Sherlock Holmes in un certo qual senso ovviamente non è che ha ispirato totalmente queste opere perché questo racconto servì a Stevenson assieme a tante altre cose come abbiamo visto assieme a l'essere stato ispirato da un dipinto con un'isola varie cose però anche leggere il racconto di Poe ispira a Stevenson la creazione la stesura i temi dell'isola del tesoro quindi la caccia al tesoro misteriosa eccetera e per Sherlock Holmes che c'entra poco con i pirati però vale la pena citarlo esisteva già un detective stravagante ma infallibile con una intelligenza acutissima che è Dupin dei delitti della Rue Morgue inventato proprio da Edgar Allan Poe quindi un grande anticipatore io ho parlato 20 minuti ma bastava dire un grande anticipatore e finiva lì la cosa però caro Flavio poi c'è una cosa interessante che Flavio se vuoi puoi citare senza fare il modesto riguardo a un progetto editoriale molto interessante che stai seguendo proprio su Edgar Allan Poe però vi voglio vi volevo leggere un piccolo estratto volevo fare anche Radio Pirata Audiobook oggi per voi per farvi immedesimare in questo racconto così che vi venga anche voglia di leggerlo per darvi un po' l'idea di come Poe descrivesse questa fantastica questo fantastico enigma del tesoro di Kid ripulendolo dalla sfiga cioè quando tu leggi queste righe non percepisci che il pirata dietro questo tesoro in realtà era uno sfigato terrificante cioè ti dà l'idea di qualcosa di avventuroso di adrenalinico perché lo ripulisce dalla sfiga cioè non è che dice Kid ma chi quello sfigato no invece ti dice voi saprete tutte le storie i mille vaghi rumori diffusi sui tesori sotterrati da Kid e i suoi compagni sulle coste dell'Atlantico addirittura i tesori di Kid tra l'altro mi piacciono i rumori che penso sia la traduzione di rumor più pigra della storia i rumori sui tesori quelle dicerie anche dicerie esatto poi dice dicerie dopo quelle dicerie dovevano avere qualche fondamento nei fatti che siano durate con tanta persistenza da tanto tempo secondo me doveva derivare dalla circostanza che il tesoro si trovava ancora sotterrato quindi lui dice se ne parla non ancora è perché sta ancora lì se Kid avesse celato il suo bottino per un certo tempo e poi lo avesse ripreso quei rumori non sarebbero arrivati sino a noi nella forma invariabile che hanno oggi di osservate che le storie sono sempre di cercatori e mai ritrovatori di tesori questi sembrano io e Flavio che diciamo ma andiamo sull'isola ma si andiamo perché se l'avessero trovato non sarebbe così chissà poi scopritelo voi leggendolo se nel finale il protagonista scopre il tesoro di Kid e diventa tipo Paperino perché gli si calamita una sfiga addosso terrificante lo scoprirete leggendo lo scarabeo d'oro tra l'altro Flavio non è collegato che ora parliamo dello scarabeo d'oro al progetto editoriale di Flavio se no sembra un marchettone che non abbiamo intenzione di fare io fuori onda il progetto editoriale di cui parli non lo sto curando io non l'ho curato io allora non ce ne frega ma sì no collaboro diciamo per vie traverse perché sta uscendo per la casa di Dice con cui io lavoro più di frequente che edizioni Aiku sta uscendo una antologia tra virgolette pirata di alcuni racconti di Edgar Allan Poe tra cui appunto lo scarabeo d'oro e vi consiglio di recuperarla non tanto perché per vie traverse comunque ce l'ho lavorato anch'io ma perché è una selezione di racconti molto interessante che dà un'idea di un po' abbastanza sconosciuto rispetto appunto a dei racconti sì inquietanti ma un po' più avventurosi tra l'altro in copertina c'è un bellissimo Edgar Allan Poe con la benda da pirata e il corvo sulla spalla invece del pappagallo no non l'ho vista io ma disegnato un artwork o un fotomontale sì è una specie di artwork grafico ma scusa quindi la casa editrice che tu hai contribuito a fondare ha iniziato questo progetto a tema marinaresco e non ci sei tu dietro avrai dato eh esatto strano vero eh infatti no ma sai che il discorso è che la collana di riferimento in cui entra la storia generale dei pirati in cui entra anche questo questa antologia su Poe non è curata solo da me c'è un altro curatore Mauro Cotone che è un grande esperto di letteratura inglese comunque di lingua inglese in lingua inglese e ha voluto creare questa raccolta su Poe un po' sulla scia del mio entusiasmo piratesco quindi si chiudiamo un po' anche la parentesi un po' Marchettara su questo libro però è un'antologia che effettivamente ha è di grande valore di grande interesse secondo me e torniamo a Kid torniamo a Kid che ha sepolto il suo tesoro a Gardner's Island e torna dal governatore il conte di Belmont se ricordi il governatore che aveva spedito Kid in questa fortunatissima impresa aveva già la pessima fama di farsela con i pirati il fatto che Kid da lui stesso appuntato e raccomandato spiccasse ormai nella lista dei ricercati dell'impero britannico non deponeva molto a suo favore insomma tu immaginate che invii un tizio e lo raccomandi dicevi no io non me la faccio con i pirati anzi guarda mando questo qui a combattere i pirati per questo diventa il più famoso dei pirati in circolazione non è che non è che proprio la gente non tende a fidarsi molto più del tuo giudizio quindi per evitare di finire definitivamente nei guai il bravo conte dà appuntamento a Kid a Boston e gli promette clemenza e come sai i politici dicono sempre la verità infatti lo accoglie con una guardigione e lo spedisce direttamente in carcere ma no in prigione Kid non è diciamo lo so a me fa anche un po' di compassione allora come se la passerà Kid in prigione secondo te una persona così baciata dalla buona sorte dalla dea bendata Kid subisce vessazioni condizioni durissime qualche tortura sparsa le cronache locali ci informano che per un certo periodo di tempo il suo stato mentale rasentò la follia ma dopo tutto quello che aveva passato sfiderei chiunque a restare sano di mente il processo fu naturalmente una farsa ma prima di arrivarci volevo chiederti qualche nota magari positiva da parte dei running wild esaltano qualche avventura qualcosa di buono questo poraccio o qualcosa di meglio ancora allora c'è un capitano kid appare in un videogioco che è persona 5 cioè 5 è il titolo la numerazione del capitolo della saga di questo videogame io mi sono un po' studiato questo videogame che non conoscevo magari i nostri commentatori lo conoscono più di noi praticamente se ho ben capito ci sono dei personaggi ad esempio il personaggio legato a kid nel videogioco si chiama Ryuji Sakamoto ci sono dei personaggi che possono evocare delle persone che sono una sorta di spirito che ti accompagna oppure di stand in Jojo quindi riesce a evocare un'ombra dietro di te che ti aiuta a combattere più o meno io ho capito questa è la persona e questo Ryuji Sakamoto appunto è legato a capitano kid capitano kid è una persona che ha le fattezze di un pirata fantasma praticamente tutto evanescente di colore blu con la spadona il tricorno col jolly roger in fronte il punto è da un lato mi viene da dire allora ok veramente william kid che io sinceramente conoscevo molto meno anche di nomi come Harry Morgan a parte i soliti barba nera eccetera però william kid sinceramente non l'avevo sentito tantissimo nominare ma invece ogni non ogni ma grandi opere a tema piratesco lo citano e anche questo videogioco nel dover creare un personaggio piratesco chiamiamolo capitano kid quindi vedi sicuramente è un pirata famosissimo il punto è se tu Ryuji Sakamoto personaggio di persona 5 evochi lo spirito di kid sei sicuro che non è che ti infligge i danni a te ti avvelena cioè muori il personaggio muore con kid evocato dietro cioè non fai una bella fine combatti a mani nude e fai prima lo diremo agli sviluppatori alla attius come si chiama magari è una di quelle battaglie strategiche per cui utilizza la sfiga del suo potere a proprio vantaggio non lo so nel senso provo a fare le cose al contrario perché so che mi andranno male quindi poi mi vanno bene anche la strategia proprio da rpg e quindi anche in carcere William Keat è pure in carcere adesso in carcere è maltrattatissimo tanto che perde il lume della ragione per un periodo le gronache dicono che per un periodo di tempo è impazzito però se tu tieni conto dalla situazione di partenza imbarcato in un'avventura in cui non si voleva imbarcare che poi è finita come è finita e poi dopo cornuto e mazziato come sempre per usare il linguaggio pirredisco e ti ritrovi in galera e ti torturano pure non lo so cioè io non so come reagirei nel senso veramente impazzire mi sembra il minimo dopo aver subito una cosa del genere comunque dicevo il processo che ci fu fu una farsa e tanto per cambiare Kid fu tradito e sfortunato sfortunato perché il tesoro che aveva sepolto a Gardner's Island e che tu vorresti andare a cercare anche se io te lo sconsiglio che rappresentava per lui un po' un'assicurazione sul futuro il problema è che questo tesoro fu trovato e fu utilizzato invece che in suo vantaggio come prova d'accusa nei suoi confronti perché l'avvocato dell'accusa gli disse ecco tu fai il pirata vedi abbiamo pure trovato il tesoro che avevi sepolto per non farcelo scoprire con la X sulla spiaggia dice c'era che il tesoro è il pirata c'era la X immagino che con la fortuna dei Kid la marea si è portata via un po' di terra e è uscito fuori l'ingotto alcuni dei suoi uomini tra l'altro lo tradirono perché furono corrotti in cambio di un'amnistia e confermarono tutte le accuse di pirateria a carico di Kid tra l'altro sottolineando il fatto che lui avesse ammazzato William Moore e quel famoso battibecco a suon di secchiate in testa e come ti avevo detto in quel momento nell'episodio scorso Kid poteva esercitare qualsiasi tipo di violenza sui suoi uomini legalmente quanto capitano appuntato però non l'omicidio indiscriminato insomma quindi l'accusa di assassino nei confronti di uno dei membri del suo equipaggio era un'accusa molto pesante in sede tri-tribunale soprattutto nel momento in cui la giuria era già stata foraggiata e istruita sul condannarlo per pirateria per ripulire il nome del buon conte che invece era tanto onesto e che lo aveva spedito a caccia di pirati insomma la strada per la forca per Kid era segnata e i Running Wild citano proprio cioè alla fine la morale della canzone dei Running Wild secondo me se vogliamo interpretarla così perché effettivamente loro dicono che Kid è stato sacrificato anche per da persone che volevano pararsi salvarsi diciamo loro stesse in un certo senso è stato un po' trovato anche come caprio espiatorio forse proprio per il tema che dicevamo prima anche del fallimento stesso di quell'operazione navale che con lui era partita ma che si era rivelata uno sfacelo allora dice ma di chi è la colpa abbiamo fatto male qualche investimento diamo la colpa a Kid e quindi diciamo i Running Wild sicuramente nella loro canzone ci vogliono dire che è stato tradito un grande uomo di libertà è stato tradito un grande uomo d'onore quindi come i politici siano bugiardi potenti siano bugiardi però vista così è una canzone che ti gasa che ha la giusta dose di tamarraggine e libertà per gasarti non so se i Running Wild sapessero che Kid comunque uno che se ti spaccava la testa a secchiare cioè non è che era proprio l'uomo che dici eh ma lui era innocentissimissimo quindi non è però loro dicono un corsaro innocentissimissimo la vedo difficile è vero anche questo anche noi allora che facciamo però è vero che fu sfruttato come capro espiatorio da sto gruppo di nobili investitori che si rivelarono molto più spietati e inclini al soldo rispetto alla vita delle persone che non il temibile Kid stesso insomma ecco però però sono sicuro che adesso ci stiamo avvicinando verso la fine dove lui fa una bella fine perché viene salvato da una angelò che lo porta in paradiso cioè sarà un finale positivo che ci toglie sta tensione di dosso allora Kid ebbe un colpo di sfortuna anche nel momento della condanna a morte perché il boia provò a impiccarlo e la corda si ruppe e tu mi dirai però no dai ci ha avuto fortuna qui la corda si è rotta e lui non è stato impiccato no perché comunque tu immaginati che il boia ti impicca e lascia andare la corda toglie lo sgabbello da sotto qualunque diavoleria utilizzasse e tu cadi e la corda si rompe e ti sfracelli per terra praticamente quindi oltre al danno anche quell'ultima beffa qualcuno nella platea di gente che assisteva all'esecuzione disse no quello è un segno divino e bisogna liberare i kid perché in realtà è innocente e Dio non vuole che lo condannate a morte quelli se ne sono sbattuti di quello che Dio voleva perché l'hanno piccato un'altra volta quindi non solo l'hanno piccato ma l'hanno piccato due volte perché i kid non si poteva far mancare niente no tra l'altro è morto il nostro sulle sponde del Tamigi c'è il famoso execution dock dove che era il luogo dove venivano svolte tutte le principali esecuzioni e i corpi venivano anche lasciati lì a memoria e anche per evitare che qualcuno o qualche aspirante filibustiere fosse ispirato dalla pirateria e prendesse il mare e quindi erano messi lì anche a monito della popolazione io avevo letto una curiosità che dice che le corde per impiccare i pirati erano fatte in modo come lunghezza che nel calarti giù non ti si spezzava il collo ma rimanevi soffocato quindi era una delle poche morti che avvengono per soffocamento quelle che toccavano ai pirati sulle sponde del Tamigi e altra curiosità che avevo letto è che kid come abbiamo detto si dovette difendere prima di essere ucciso e fu il primo pirata della storia britannica tutti lui ha i primati più brutti della storia della pirateria a dover rendere conto come pirata davanti al parlamento davanti alla camera dei comuni non abbiamo documenti di questa cosa forse qua facciamo un po' i complottisti anche perché kid magari aveva fatto qualche nome di sicuro aveva cercato di indicare qualche lord qualcuno che no guarda è successo questo quest'altro è sparito tutto kid l'ha impiccato due volte però alla fine è morto alla fine è morto ma non è che dopo morto l'hanno trattato meglio perché tu hai citato giustamente l'execution doc dove lui sembra sia stato giustiziato e che molto spesso i pirati li lasciavano appesi lì lui non solo lo lasciarono appeso lì ma lo incatramarono pure e tu me li hai perché a sfregio no perché così il corpo si conservava più a lungo e quindi lui poteva più a lungo essere un monito per chiunque intendesse mettersi a fare il pirata il che fa un po' ridere perché le stesse persone che lo spedirono a fare il pirata contro la sua volontà lo uccisero appesero lì e disse ho visto che facciamo noi i pirati insomma io proporrei allora Hollywood ascoltateci un film su William Kidd interpretato da Joaquin Phoenix perché questo Kidd è sfigato come il Joker di Joaquin Phoenix succede di tutto alla fine muore scena quindi scena finale lui incatramato appesoli titoli di coda scena post credits c'è una mamma col bambino che passa sotto nella sponda del Tamigi sotto il cadavere penzolante di Kidd e il bambino fa mamma perché quell'uomo è appeso lì come monito per insegnarti una preziosa lezione quale lezione di non fidarti mai dei nobili perché questa è la lezione che uno impara da Kidd perché non impara perché non devi fare il pirate cioè lo devi fare libero non come ha fatto il suo amico che lo tradì e poi effettivamente questa è la lezione che io imparo l'ultima cosa che volevo citare tra l'altro tu hai citato la canzone dei Running Wild io volevo citarti un'altra canzone che è una ballata popolare che si chiama proprio Captain Kidd e che è stata resa celebre da un gruppo folk chiamato Great Big Sea che recitano un po' la sorte del capitano Kidd senza omettere i dettagli sfortunati tanto è vero che un verso della canzone dice ho dimenticato i miei voti e la dannazione è il mio destino peraltro abbiamo citato Fantozzi una colonna sonora cioè la ballata di Fantozzi e la ballata di Kidd mi sa che sono più o meno simili come temi come musica cioè quello alla fine non è la ballata allora facciamo così la ballata di Fantozzi magari no ma la ballata di Capitan Kidd la metto appena finiamo di blaterare si può e non ci fanno il mazzo per i ma io ne metto un pezzetto vediamo se ci vengono a restare e se finiamo appesi anche noi sulle sponde la gente passerà e dirà non mettete le canzoni nei voti allora come avete visto noi in questa stagione 3 stiamo affrontando molto la vita dei corsari siamo partiti con i Sea Dogs che erano i corsari della regina d'Inghilterra vi consigliamo di riprendere le puntate se non l'avete fatto oggi abbiamo raccontato la storia di un uomo che ha iniziato come corsaro e se ne è pentito tutta la vita William Kidd e ci vediamo la prossima volta sempre con altri corsari ovviamente speriamo più fortunati alla prossima my name was Captain Kidd has ice failed has ice failed oh my